Parliamo un secondo del disastro di sicurezza che ha colpito le ferrovie a Roma con la stazione bloccata per ore. Ne dobbiamo parlare un secondo perché solo un cretino può pensare di dire che è stato un chiodo, solo un cretino può pensare di incolpare un'azienda che ha fatto un lavoro in una cosa di questo tipo e siccome solo un cretino può crederci e voi non siete cretini, dobbiamo fare due parole. Due parole su che cosa vuol dire infrastruttura critica, su come gli errori succedono e come in alcune principali parti, alcuni principali snodi di importanza all'interno dell'infrastruttura italiana e questa cosa, anche se succede, non dovrebbe portare nessuna conseguenza. Ovviamente se le persone fanno il loro lavoro e non stiamo parlando degli addetti, stiamo parlando di chi deve vigilare che un sistema sia davvero resiliente. Io sono Matteo Flaro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, credo che la notizia la sappiate. l'intera praticamente stazione di Roma Termini, mercoledì mattina, si è fermata, si è fermata per ore a causa di un guasto elettrico. Ora, un guasto elettrico che ha rivestito che cosa? Una delle linee in cui, spoiler, sì, un chiodo o qualcosa un po' di più di un chiodo è stato piantato all'interno, questa è l'immagine, di una linea elettrica. Ovviamente qualcuno si è subito lanciato non a trovare la responsabilità di perché era lì la squadra, come eccetera, ma per chiedere i nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Semplifico a questa persona il suo compito di trovare i nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro perché probabilmente basta aprire il portafogli o andare a vedere chi c'è all'interno delle strutture deputate al controllo e organizzazione delle ferrovie. Perché tutto questo? Partiamo dall'inizio. Partiamo da questo. Una linea di corrente si interrompe. Succede, succede che ci sono lavori, succede che i tizi qua fuori da me tagliano con un escavatore tagliano il manto stradale e staccano la corrente a un cappannone. Succede, succede in tutte le cose possibili di immaginare. Non dovrebbe succedere, grazie a *** che non dovrebbe succedere, però succede. Ora, a questo punto dobbiamo dividere un po' di diverse tipologie di cose. Può succedere al negozio sotto casa, può succedere a casa di Matteo e questa cosa ha delle conseguenze. Ha talmente tante conseguenze che casa di Matteo, almeno qui nello studio, ha qui sotto un UPS, un gruppo di continuità. Dove questa cosa può succedere e non deve avere delle conseguenze, sono alcune limitate parti dell'infrastruttura nazionale che hanno un nome specifico. Si chiamano infrastrutture critiche. Sono critiche perché? Perché il loro malfunzionamento può compromettere in maniera importante quello che è il funzionamento della società. Ci sono mezzi di trasporti, aeroporti, porti, ci sono ospedali, ci sono le infrastrutture stradali, ci sono le dighe, ci sono tutta la parte di distribuzione elettrica e centrali, ci sono anche alcune aziende che forniscono servizi bancari e voluti, un po' di cose. Si chiamano infrastrutture critiche proprio perché la loro criticità determina, beh, determina delle misure in più. Non possono fermarsi. Ora, non è che non possono fermarsi è il «se si fermano, cattivo, cattivo, ti scudiscio sul sedere», ok? Non possono è un'affermazione architetturale. Sono ingegnerizzate per evitarlo, ok? Sono ingegnerizzate per evitarlo, hanno dei costi che sono enormemente più alti di quelli normali, enormemente, perché non è che è solo tutto ridondato, è davvero enormemente più ampio, e sono costruite da zero perché queste cose non funzionino. Infatti, il problema non è stato il famoso, questo, chiodo. Il problema è stato che il chiodo è entrato, va bene, ma non è successo quasi niente subito perché c'era un gruppo di continuità, in realtà una batteria, un UPS, se vogliamo essere un po' più precisi, che è andato avanti per tanto, è andato avanti per quasi sei ore. Perché? Perché normalmente un UPS viene messo in quelle parti della rete in cui è difficile ridondare. Già questa cosa molto probabilmente doveva essere ridondata. Cosa significa? Che non è possibile che a n apparecchiature, che sono fondamentali, arrivi corrente da un'unica parte. Devono esserci più modi per avere quella corrente. Non solo. Se parte, succede che si trancino cavi, eccetera, è il motivo per cui ci sono quei dispositivi lì per evitarlo. Nel momento in cui la corrente viene interrotta e entra un sistema, un generatore o una batteria, per fare in modo che non si sconvolga il funzionamento, questa batteria, questo generatore, manda degli allarmi. Questi allarmi vengono visti da qualcuno che a questo punto non ha più mezzo secondo, ma ha ore per capire che cosa è successo, per andare a trovare uno. Qui non è successo. Il sistema è entrato in funzione, evidentemente, perché è morto sei ore dopo l'incidente, il sistema non è morto immediatamente, se no sarebbe morto immediatamente. Nessuno ha fatto nulla, nessuno ha controllato, nessuno se ne è accorto, nessuno è intervenuto. Quel problema non è un problema di un cavo, che è un problema, è che qualcuno abbia piantato lì, abbia tranciato un cavo, è un problema, ovviamente. Ma il problema reale è che qualcuno può tranciare il cavo lì, può tagliarlo da un'altra parte, possono essere lavori, può essere un attentato terroristico, ok, in generale, può essere la sbadatezza di qualcuno, ci sono mille ragioni per cui può succedere. Il sistema è progettato per evitare che cose del genere accadano, o meglio, perdonatemi, non che accadano. È evitato, è progettato per fare in modo che anche nell'eventualità in cui succedano cose di questo tipo, non abbiano conseguenze sul trasporto. Ed è lì il problema. E qui è fallito un mondo, un mondo di infrastrutture, di procedure, di persone. Qui è fallito tutto il sistema di controllo, che non è solo un problema del quanti soldi prendono, non l'operaio che ha piantato un chiodo, ma quanti soldi prendono tutte le persone che hanno sorvegliato, che stanno sorvegliando tutti i sistemi che dovevano accorgersi di quella cosa. Quanti più soldi prendono quelli che manutengono infrastrutture critiche, che hanno fatto il... Tutta questa parte. Che sono migliaia e migliaia di volte lo stipendio che può probabilmente mai vedere nella vita l'impresa che ha fatto sta roba. Ok? E cosa facevano? Perché non ha funzionato? E sono lì le responsabilità. E non sono in ditte esterne. È parte interna di come funziona. Una cosa fondamentale come il trasporto ferroviario. Lì è dove bisognerebbe incazzarsi, lì è dove bisogna andare a vedere che cosa è successo. Tutto il resto sono semplicemente dei diversivi. E andare a dire, eh vabbè, ma pioveva. Ok? Non me ne frega niente. Ecco, per evitare di fare... di essere stupidi, ricordiamoci quella parte. Ricordiamoci chi aveva l'appalto dei servizi di sorveglianza, chi aveva l'appalto della manutenzione delle infrastrutture critiche, chi aveva l'appalto dei controlli, qual era la struttura gerarchica sopra, non solo a capire quale azienda è andata lì, ma tutta la parte di sorveglianza, di controllo e di resilienza. Perché è lì la cosa fondamentale. perché non voglio che in un ospedale, in un aeroporto, non voglio solo, mettiamola così, che problemi del genere non succedono. Può sempre succedere, può cadere una gru, ok, sopra una palina, eccetera. Io voglio che siano semplicemente progettate per fare in modo che anche se succedesse non ci sarebbero conseguenze, cosa che qui non è successa. E questa è la cosa di cui dovete incazzarvi. Tutto qui. Ci vediamo presto. Ciao a tutti quelli nuovi che sono arrivati. Ho visto che tra il corso, eccetera, ne sono arrivati un botto. Spero di interessarvi e di darvi cose più o meno utili. Per il resto, se non vi siete ancora iscritti, invece siete qua per caso, iscrivetevi. Qua in fondo trovate i gruppi Telegram e WhatsApp per registrarvi e state parati.